Sabato 18 febbraio, grande spettacolo al Palace Radimigni con il puntuale appuntamento dei campionati regionali assoluti di lotta stile libero MMA Grappling e per la prima volta anche della tradizionale lotta sarda Sastrumpa. Buonasera a tutti, un ringraziamento alla federazione La Filcan per questo invito e per questa opportunità di rappresentare la lotta sarda Sastrumpa in un torneo regionale. L'evento organizzato dalla polisportiva Athlon Sassar ha suscitato notevole interesse ed emozionato il pubblico che di anno in anno sta diventando sempre più numeroso. I campionati sarda e di lotta sono qualcosa di importante, lo testimoniano il fatto che a Sassari quest'oggi sono visti oltre 100 atleti che sono dati in battaglia e tuttora stanno combattendo veramente all'insegna della grandissima sportività. Ringrazio Vincenzo Piroddu per questa magnifica giornata di sport, c'è stata molta affluenza di atleti sia di grappling che di MMA e siamo tutti molto contenti e questa è una soluzione molto molto bella questa di unire la lotta olimpica insieme al grappling e all'MMA perché sono tre sport che hanno molti punti in comune. Indubbiamente è una bella esperienza, già in passato ho avuto modo di assistere a delle gare di lotta qui al palazzetto e ho accettato con piacere l'invito del presidente Piroddu per assistere a questa giornata che onestamente mi sta entusiasmando, soprattutto i ragazzini che si stanno esibendo tra un incontro e l'altro sono veramente molto belli da vedere. Alla fine della Kermes la polisportiva Atalon Sassari si è giudicata al primo posto per società nella lotta stile libero, seguita al secondo posto dalla polisportiva Gigliotti Team Nuoro, terza la società sportiva Eleonora d'Arborea Cagliari e a seguire nell'ordine lo Shardana Lotta Judo Silanus, polisportiva Lion Sassari e polisportiva Vigili del Fuoco Sassari. Nell'MMA nel grappling si è giudicata al primo posto la SD Budokan Sorso, seguita dalla polisportiva Atalon Sassari e terza la società sportiva ASD Octopus Area 21 Cagliari. Infine per quanto riguarda Sastrumpa, sul gradino più alto del podio è salita la polisportiva Gigliotti Team Nuoro, seguita dalla polisportiva Atalon Sassari. Piuga è successo, veramente numeri di atleti inaspettati, il livello tecnico è abbastanza alto, quindi contentissimo e contentissimi tutte le società, tutti gli atleti e anche penso anche tutto il pubblico perché è veramente stato un bel ospedale.